A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai Secondo te il 2019 è l'anno buono, allora ci lasciamo con forza Forza Palermo Bravo, grazie Sta finendo l'anno e naturalmente nel nostro cuore c'è sempre il colore rosa nero Ma di solito c'è sempre anche un giocatore in particolare che ci piace Vogliamo fargli gli auguri a Nesto Roschi, al nostro capitano E che cosa vogliamo dirgli? Un campionato sereno E che ritorniamo in Serie A più forti di voi Certo, vogliamo dirgli allora buon anno e buon Natale Buon anno e buon Natale Grazie Forza Palermo per sempre Bravo Vogliamo fare gli auguri a un giocatore in particolare del Palermo? Sì, io vorrei fare gli auguri di buon anno e di buon Natale a Nesto Roschi E tu? Io volevo fare gli auguri di buon Natale e di buon anno a Pomini Bravo Io volevo fare gli auguri di buon Natale e di buon anno a Brignoli Io voglio fare gli auguri di buon Natale a Rispoli Bravo Io invece voglio fare gli auguri di buon anno a Nesto Roschi Che domenica fa tre gol domenica fa Bravo, fa tre gol Senti, vogliamo chiudere come? Forza Palermo Forza Juve Voglio fare gli auguri a tutta naturalmente la squadra Ma un giocatore in particolare Ma un giocatore in particolare Io vorrei fare gli auguri di buone feste a Rispoli Aguri di buone feste Ciao Rispoli Grazie Da un buon Palermità E forza Palermo E forza Palermo Grazie Stanno arrivando le feste, naturalmente è il momento degli auguri Sì, vogliamo fare un augurio particolare a un giocatore? No, a tutta E la squadra facciamo un augurio e un presto ritorno in Serie A, spero, quest'anno Senti, come ci possiamo lasciare se non con forza Palermo sempre Bravo, grazie Come dicevo è arrivato il momento degli auguri per tutti, naturalmente per tutta la squadra Ma se c'è un giocatore in particolare facciamo l'audito Eh, a Nestorowski il nostro bomber Ma comunque lo auguro tutta la squadra perché è una festa per tutti E quindi diciamoglio buon Natale e buon Anno Buon Natale e Palermo Certo Senti, e poi diremo tutti quanti insieme forza Palermo Allora, un augurio a un giocatore del Palermo Chi ti piace di più? Iagolo Eh, perfetto Allora facciamo gli auguri e diglielo Iagolo, buon Anno e buon Natale Iagolo, buon Anno e buon Natale Grazie Ora tu invece? A un giocatore particolare, Abrignoli Abrignoli, bravo Buon Anno e buon Natale E quest'anno un altro gol all'ultima giornata e se la mi inserirà grazie a te Esatto, bravo Allora, tu lo devi fare pure, dai Arrispoli Bravo, Andrea Buon Natale Bravo, Andrea, cari auguri Benissimo Tutta la squadra dà tutto in campo Secondo me è un giocatore impressionato, Falletti Quindi è anche il mister Roberto Stellone che sta dando tanto, veramente Auguri a tutti Buon Natale Grazie Come ha detto anche da lui, anche a tutta la squadra Mettetevi un attimo a Forza Palermo In particolare anche a Raikovic Quindi Forza Palermo, pure Raikovic Sì, ma è arrivato, mettetevi un attimo tutti insieme perché c'è sempre un solito modo Io ho sempre chiuso e siccome nel cuore siamo Rosanero Forza Palermo Bravi